Pronto? Quando vuoi, Oggione? La bombaccia! E vai! La bestia, Oggione! Che colore! Ah, a bombazio! Guarda qua! Che bello! Là c'è la montagna, eh! Se si va così ci si batte! Davvero? Yes! Guarda che bella piscina lì! Ah, no? Anche lì va! Vai in su di qui! No, ci hanno! Ottimo insegnamento! Oh, hanno tutti la solita piscina! Tutti fatto uguale, guarda! Quella lì a L, là ce n'è dieci! Dio, maiale! Vada bellino! Vada che casino! Anche quella là! Vedi a L! Sì! Questa l'ha fatta ora, va! Hello! Hey! Guarda mare, porca troia! Guarda spettacolo! Dai, dove si fa il bagno, vai! Qui è da farlo davvero! Guarda che meraviglia! Sì! 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 il rasamento non c'è nulla allora siamo a 155 gradi rosso e lampeggia e GT 492 fuori 20 gradi 2000 giri 1900 giri andiamo indietro vai ciao Davide qui c'è caldo Davide ora si va a fare un bagnetto si atterra già? si si se ci si fa ciao aspetta devo mettere sulle gambe ha detto senza far danni io pensi a Santerrafermi no per mettere giù la vela ah da là trick dai la voglio lì la vela eh no la tiro dietro come mai? se c'è vento mare oh no